Va bevi bevi, va glu 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 E va fanciapetting Best player of the world Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Fortnite Dove cercheremo di giocare Più o meno bene Visto che sta andando di moda magari faccio pena Faccio compassione e qualcuno mi guarda Magari Ho registrato un video, non so se l'avete già visto O non lo vedrete mai O lo vedete da giorni Dove proverò A trollare Una persona che non è andata molto bene Però non vi spoiler com'è andata Non vi dico nulla, è andata Lo vedrete, secondo me è uscito molto divertente Fatemi sapere se volete altri episodi Come quello che dovrebbe uscire Non so se è uscito o cos'è così E nulla, noi ora cerchiamo di fare Il meglio possibile Dato le mie capacità Il mio record di uccisioni E di tre uccisioni se vi può interessare C'è stato un momento che scendevo A cacchio era, aspettate Corso commercio in una casa Se non sbaglio Entravo, andavo sul tetto Rompevo Con un colpo mi ammazzavano Sempre due partite di fila Con un colpo mi ammazzavano sempre Vabbè Sono quelle cose che dici Eh vabbè Pinnacoli pendenti Facciamo la prima Pinnacoli pendenti Ignorante Ci asfaltano male Però direi Dai la prima Pinnacoli pendenti Non si scorda mai Quindi scusate se Intanto non parlo Ma preferisco Concentrarmi E giocare Se non sbaglio Siamo a Pinnacoli pendenti Esattamente Dovremmo arrivarci Forse giusti giusti Sul campanile Spero Ecco il mio problema Che non so costruire Davvero Sono lentissimo A costruire Dimmi che c'è la casa Sul campanile Sì 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 Devo sperare che nessuno Voglia Fottermi il campanile Eccolo lì E subito Perfetto Noi allora scendiamo Boh Scendi qui va Ok scendi Dai rompi tutto qua Senti tu dei passi Spero che nessuno Voglia uccidermi Cosa molto improbabile Bevi lo scudino Che non ti dico Che mi aiuta Però Sempre meglio Avercelo Che non avercelo Ricordate La balestra Prendiamo la balestra Va mi ispira Magari qua Ci può essere Una cassa Non lo so Proviamo No Cacchio è la cassa Direi che Rompere Forse sotto Prova a rompere qui Non credo Che sia qua sotto Comunque Io ci provo Eh raga Andare cattivo Tanto siamo vicini Alla safe Mica Aia Mi ha preso Aia Provo a bardarmi Un pochino Lo spara Non capisco Da dove Io opto Per fare Una scalinata Qua va Li ho visti Se non mi sbaglio Ne avevo visto Uno qui Qui c'è qualcuno Non credo Aia Aia Figlio di Buona donnola Aia Optiamo percorso commercio Dai stavolta Che è lontano In teoria Nessuno dovrebbe rompere I gabasisi In teoria In pratica Ci sarà il mondo Che romperà le balle Dai ci lanciamo E dai Ci va a corso commercio Spero di non essere Che non ci siano Molte persone Che vogliono andare A corso commercio Forse mi sa Che arriveremo Un filino lunghi No andiamo Eh no Non ce la faccio In tempo Scendiamo qua Dai Ok Ho fatto già Una bella cagata Perché Qui Non sono Il solo Riuscisse a trovare Già qualche armetta La pistolina Non male Qua c'è l'uscita Niente di che Se non sbaglio Direi di andarlo a prendere Proviamo andarlo a prendere Anche se secondo me Crepo tipo In due secondi Mal contati Ci lascio Il pacchetto E non solo Lo sento lutare qua sopra Quindi secondo me Potrebbe essere qui Allora il fucile Da caccia Ce l'ho Allora lui è qua Se non sbaglio Magari Una bella Cartella In testa Se la può anche Pigliare C'è uno scudo Io Mi Cucco Lo scudino Che Va bevi Bevi Gluglugluglugla Molto Molto bene Allora Qui Mi sa che Ho luttato Tutto Ah no No la balestra guarda te la lascio volentieri Prendi altri colpi Ok Qua c'è una porta Beh ho fatto il giro io Una scusa ho sbagliato Ho sbagliato Ok L'ho sentito L'ho sentito Dovrebbe essere qua Ho ucciso Ho ucciso Non ci credo Non ci credo nemmeno io Non ci credo nemmeno io Sono contentissimo Prendi lo scudino Una kill Attenzione Mi sento contento Boh non basta Posso essere contento Perfetto Qua direi che comunque Non hanno molto A me vampa fucile Mi trovo malissimo Ci proviamo a muovere Ci proviamo a muovere Andiamo verso un magazzino Ammuffito E luttiamo un po' di legna Che secondo me Che secondo me Fa un po' di comodo Magari qua ci può essere qualcuno Magari Qui della legna Che fa sempre comodo Allora Allora luttiamo un po' Sta zona qui Magari troviamo qualcosa di utile Sento sparare Attenzione Alla mia sinistra Ma non capisco dove Forse lì c'è qualcuno Però è un po' Un po' pericoloso Secondo me Qui Prendiamo i materiali Va Perfucir Tanto noi siamo dentro Ah sono lì Ok Vorrei provarle And andare Solo Mi sa che mi ha visto Provare a Tirarlo giù Mi sembra un po' Esagerato E secondo me Non sono capace L'ho preso Non mi chiedete come L'ho preso Io ho tolto 66 Non l'ho preso Vedendo un puntino Che andava Assolutamente a caso Sta creando un fortino lì Io direi di provarlo Ad aggirare E vedere se riesco A fargli Un po' di danno Visto che sta creando Un ponte Provare ad andarlo a prendere Mi sa da suicidio Ma A livelli astronomici Magari provare a fare un ponte Tanto mi sa che si stanno ammazzando Fare un collegamento da dietro No Mi fai mettere una scala qua Mannaggia A te Magari posso fare qualcosa di decente Lo ha girato Non capisco da dove E soprattutto Che giro Io ho fatto fare Se non sbaglio Là c'è una chest Direi di provare a salire Non saprei nemmeno Ah lì c'è un drop Lì ce n'è uno È solo che senza Mi servirebbe il cecchino In teoria Non mi potrebbe prendere Da di qua Aia Vedo lanciarazzi qui Eh mi sa che qua la vedo Cos'è questa Una granata Mi sa proprio Eh sto qua spicchio Voglio provare a ucciderlo Ma mi sa che crepo Cioè ma male Eh no Picchio Provo a Ma un colpo così ignorante Mi fanno arrabbiare questi qua Che con un colpo Ti sciottano ma Male Cacchio Ok Facciamo per concludere Un altro pinnacoli pendenti Così se devo morire Muoio Perché pinnacoli pendenti Se vuoi morire Se vuoi migliorare Devi andare lì Se vuoi migliorare Nel pvp Costruirò cose così Secondo me Ok dai L'ultima partitella di oggi Spero che comunque vi piaccia Anche se non sono Un best player Of the world Dov'è il campanile? Eh il campanile mi sa che mi fa Ciao 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 Ma ciao Di solito sul campanile Si trovano della roba Di solito Forse se non sbaglio C'è la chest Si ci dovrebbe essere Solo che Non sono soltanto io Che ci vuole andare Su sto campanile C'è mezzo mondo E sto mezzo mondo È bello cattivello Doppia chest Apri sta chest Molto molto bene Bevi lo scudino va Ok vediamo un po' se riesco Ad ammazzare qualcuno Nonostante la mia scarsa abilità Nel cecchinaggio Da distanza Non è che Non ho un cecchino in mano Eh dio stai calmo Non ti cazzare Faccio un mezzo camperone no Ma si Noi non siamo camperoni Andiamo A futuro C'è un'altra cesta qua Attenzione C'è un'altra cesta Non male Scendi Aspetta qua c'è un'altra Tripla cesta Attenzione Vampa fucile Le bende Prendi il vampa fucile Prendi il vampa fucile Ah era Era questa qua La chest Proviamo a andare Andiamo di cattiveria Ignoranza Qui c'è una chest Sta a vedere come crepo Porca Cazzozza Mi son cagato a mano No E vaffancia petting Vabbè ragazzuoli Per questo Eh sapete che Pinacoli pendenti E se devi andare lì Muori Peccato Con 15 di vita È rimasto Ma mi girano le scatole Con 15 di vita Vabbè ragazzuoli Spero che questo video Qua vi sia piaciuto Nel caso Fatemi sapere nei commenti Se volete altri episodi Su fortnite Magari io Ve lo porterò E nulla Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Spollgiate e commentate Se volete sui social In descrizione Ciao a tutti Non ve la prendete Se sono scarso Ma sono scarso Però comunque Sto migliorando Un paio di kill Sto facendo Quando mi capitano Noi ci vediamo Ciao a tutti Basta sto parlando troppo Ciao